C'è sempre stato. Il colore della pelle è il marchio più potente che ci sia. Nulla può dividere gli uomini con una tale efficacia. Il razzismo non è una malattia, non è una storpiatura della storia. Il razzismo è la storia. Salve. Buongiorno. Salve. Non c'è tempo per avvicinare le culture. Se la mettete così il problema è insormontabile. Tu ti spacci per un mediatore ma non sei un mediatore. È inutile far finta che le differenze non esistano. Io non sono razzista. Per prima cosa non ho utilizzato quella parola. Seconda cosa calmati. Sei sicura di non aver imparato nulla? Ma credo che abbiamo superato i diritti. Posso chiederti di farti i cazzi tuoi? Voi siete consapevoli che la vostra razza è la norma?